Continuano quotidianamente ad arrivare segnalazioni alle nostre redazioni di RTC e giornale di Calabria su mini e maxi discariche presenti nelle nostre città e province. Oggi è la volta del capologo di Regione Catanzaro. I nostri lettori e telespettatori, molto sensibili a tale problematica, ci hanno segnalato una non certo bella situazione a Catanzaro Nord, nel quartiere Ponte Piccolo, esattamente nell'area dove sorgeva il campetto sportivo Sant'Elena, ormai abbandonato, che un tempo riuniva i numerosi giovani della zona. Di quel vetusto campo di calcio interabbattuta, molto amato dagli abitanti e il quartiere, oggi è rimasto poco o nulla, soltanto lo scheletro di una porta e poco altro. Per il resto i palloni hanno lasciato spazio alle erbacce e a rifiuti di ogni genere, molto corposi. Bottiglie, secchi, cartacce, materassi, legna e immondizia, ce n'è per tutti i gusti al Sant'Elena di Ponte Piccolo. Il tutto, peraltro, mal mimetizzato nella folta vegetazione e di conseguenza ben chiaro e visibile a chi decide di percorrere l'area, peraltro molto limitrofa alle numerose attività commerciali e degli esercizi della zona. L'ennesima storia di inciviltà, quindi, di scarso decoro e di poco rispetto per l'ambiente. Le immagini che state vedendo testimoniano il tutto. Obiettivo di chi ha scritto RTC al giornale di Calabria è, tramite questo nostro servizio, riuscire a fare ripulire quell'area, invocando l'attenzione dell'amministrazione comunale e, soprattutto, maggiore dignità e decoro da parte di una comunità, spesso indolente, che non si rende conto di inquinare il suo stesso ambiente.